In attesa delle decisioni dell'EMA non si recupera niente perché siamo bloccati, il nostro malgrado, io avrei continuato, però probabilmente chi ha deciso di interrompere aveva altri elementi che io non ho. Io ritengo che nel momento in cui ripartiamo dobbiamo ripartire incoraggiando le persone con velocità e con lo spirito di chi sa che questa pandemia si riconvigge solo con vaccini, vaccini e vaccini. Grazie a tutti.